Nella settimana dal 2 all'8 gennaio in Sicilia si è assistito a un lieve incremento delle nuove infezioni da covid in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 11.284 con un'incidenza di 235 su 100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano gli over 90, quella tra i 70 e 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. Questi i dati diffusi nell'ultimo bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene la diffusione dei contagi progressi si riflette ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da covid. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultata non vaccinata. Per quanto riguarda le vaccinazioni i soggetti nel target 5 e 11 anni con almeno una dose si attestano al 24,09%. Sono 63.827 i bambini pari al 20,71% che hanno completato il ciclo primario. Nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,93%. Sono ancora 1.057.593 i cittadini che non hanno fatto la terza dose aggiuntiva a booster. Le somministrazioni della quarta dose sono complessivamente 226.408 di cui 200.259 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 7.173. di cui 200.259 i cittadini che non hanno fatto la terza dose aggiuntiva a risultare a risultare a risultare a risultare a risultare a risultare a risultare. Grazie.